Superbonus Abruzzo, la legge che può sbloccare i cantieri presso la decisione della Regione su cessione dei crediti e salvataggio dei lavori. Il quotidiano Il Centro, nell'articolo di Lorenzo Colantonio, è in grado di anticipare la nuova legge. Tutto è partito dalla Basilicata con l'approvazione di una legge regionale che ha fatto da apripista una possibile speranza. La Regione Abruzzo non ha perso tempo e segue a ruota. Dopo il primo tentativo fallito sette mesi fa, ripropone una nuova legge che dovrebbe essere in grado di sbloccare i crediti cagliati e i cantieri rimasti in pratica fermi del Superbonus 110%, che in Abruzzo sono decine e decine. Così è stato preparato in tempi rapidi il testo dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che il presidente Marsiglio ha in suo possesso grazie a Lorenzo Sospiri. Un testo che richiama quello della norma approvata in Basilicata che, come noto, ha ottenuto il là dal Ministero dell'Economia e Finanza. La legge, si legge sempre su il centro, stabilisce che lo stop alle cessioni dei crediti incagliati disposto il 16 febbraio scorso da un decreto del governo Meloni non si applicerebbe agli acquisti da parte di alcune società ed enti collegati con la Regione, come Tua, Fira, Ater, Arapa. Questa seconda legge prevede che la Regione non sia più l'attore principale che acquista crediti incagliati da imprese per cederli poi agli istituti bancari attraverso il proprio modello F4 e quindi in fase di dichiarazione fiscale con un meccanismo di compensazione, ma che a fare tutto ciò in una vera e propria triangolazione, siano gli enti o la società ad esse collegate. Dopo accurate verifiche, la Regione Abruzzo prenderà la decisione di far procedere oppure no la legge sblocca cantieri, in particolare dopo che l'ufficio di ragioneria ha valutato l'applicabilità tecnica della norma e soprattutto quanti crediti generano gli enti economici o le società. La partita si riapre? Molto presto lo sapremo.